Per intercettare il pallone Vuole il contrasto, recupera il pallone Pallone invitante Vediamo cosa inventa ora Sapata 1-0 dunque, raccolgono i frutti di un'ottima prestazione fin qui Stavano facendo un po' quello che volevano, troppo passivo L'atteggiamento della squadra avversaria a vantaggio, direi, più che meritato E qui possiamo ammirare tutta la sua abilità per questa prudezza